Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento della Rassegna Stampa 24 agosto 2016, una giornata che rimarrà tristemente ricordata perché alcune ore fa, 3 e 36 esattamente della scorsa notte, di questa notte la terra ha tremato violentemente in tutto il centro Italia. In queste ore tutti i soccorsi si stanno dirigendo verso queste due piccole località del Lazio, in provincia di Rieti, dove c'è stato l'epicentro di questo forte terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter, terremoto che purtroppo, e questo è soltanto un primo bilancio, ha provocato anche delle vittime oltre ai crolli, due paesi sono andati completamente distrutti, anche nelle Marche la situazione non è bella, due, non è buona, due vittime certate in due paesini delle Marche, siamo nel sud chiaramente delle Marche, anche se la scossa di terremoto, ripeto, è stata sentita, avvertita da Rimini a Napoli, tutta mezza Italia ha tremato. Poi scosse di assestamento. Abbiamo questa mattina, subito dopo la prima scossa, abbiamo già pubblicato sul nostro sito internet, occhionanotizia.it, le prime informazioni, chiaramente i social network hanno fatto la parte più importante, subito dopo le prime scosse, quindi tanti si sono messi al computer, al telefonino per capire cosa stava succedendo, l'entità, soprattutto subito dopo i primi minuti, non si sapeva ancora dove fosse stato l'epicentro, quindi non si sapeva bene nulla. Insomma, ecco, noi abbiamo pubblicato, l'ultima cosa che la redazione ha pubblicato, per esempio, e qui andiamo sul nostro sito internet, è l'allerta che la Protezione Civile Nazionale ha mandato al servizio emergenza radio di Fano e sono quattro le persone che appunto stanno partendo per raggiungere le zone colpite dal sisma, lo vedremo tra poco in collegamento in diretta. Si tratta di due addetti alle comunicazioni radio e due responsabili dell'allestimento di un campo per sfollati. Tutte e quattro le persone sono state allertate dalla Protezione Civile Nazionale, sono già operativi per effettuare sopralluoghi e far partire i soccorsi. Mentre ad Ancona, Saveri Olivi, che è responsabile della Protezione Civile di Fano e delle Marche, sta incontrando i vertici per decidere se far partire la colonna mobile regionale composta da 80 persone. La prima forte scossa del terremoto è stata avvertita in modo distinto anche a Fano, tante le persone sono scese in strada per paura di crolli, numerose le chiamate ai vigili del fuoco che nei minuti immediatamente dopo la scossa sono potuti intervenire anche per aprire le porte a quelle persone che scappando di corsa sono rimaste fuori casa. Non si segnalano però danni. Il terremoto di magnitudo 6.0, dice il sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di vulcanologia Andrea Tertulliani è un terremoto forte, certamente ci saranno delle scie. Tutto può succedere nel senso che non è escluso che le scosse possano tornare ad essere della stessa intensità della prima. Questa è la notizia un po' più, quella che sicuramente preoccupa un po' di più. Allora, per quanto riguarda invece il terremoto, andiamo su Twitter, tanto per farvi capire, perché non tutti l'hanno, cioè in tantissimi l'hanno sentito, l'hanno percepito il terremoto, ma non tutti l'hanno sentito. Quelli che hanno il suono pesante sono rimasti lì a letto. Però tanto per farvi capire, guardate che cosa, queste sono le foto che stanno postando in questo momento le agenzie e non solo. Ecco, io chiaramente avendolo sentito bene, adesso ogni minimo scricchiolio qua è un problema. Allora, dicevo, queste sono le fotografie che ha pubblicato per esempio l'Ansia, guardate in che stato si trova uno dei paesi colpiti, sono paesi in provincia di Rieti che si popolano durante l'estate di turisti, quindi si arriva anche a 1500 persone, si arriva. E quindi ci sono anche molti turisti, però sono paesi che stanno in mezzo ai monti, come si dice, e quindi nella sfortuna, la fortuna che non siano paesi o località troppo densamente popolate, come poteva essere l'Aquila, perché l'intensità è la stessa. Vedete, i due paesi colpiti sono Accumuli e Amatrice in provincia di Rieti, siamo al confine tra il Lazio e le Marche. Amatrice è un paese distrutto, ha detto il sindaco, non c'è più, Accumuli lo stesso, l'epicentro è proprio lì. Tra l'altro anche molto in superficie il terremoto, perché 4 km in profondità è pochissimo, 6.0, quindi una forza così a 4 km di profondità, certamente il disastro è assicurato. E queste sono altre foto, le foto che stanno arrivando in questo momento, che stanno postando in questo momento su Twitter. Guardate, vedete in quale situazione, in quali località ci troviamo, vedete, siamo in mezzo ai monti praticamente, ed è anche difficile poi raggiungere queste località. Questo è il paese, vedete, il capo della protezione civile Curcio dice il sisma è paragonabile a quello dell'Aquila. L'unica cosa che cambia appunto è che non ci sono le persone, il numero delle persone che ci sono all'Aquila. Ci sarebbero feriti anche in una zona interna dell'Ascolano, infatti sono anche nelle Marche, ci sono purtroppo due morti, il bilancio chiaramente, come si dice in questi casi, purtroppo è destinato a salire, speriamo non di molto. E vedete qui le persone a San Benedetto del Tronto, tutte fuori dall'hotel, sono tutte persone che sono rimaste fuori dall'albergo, che hanno dormito, insomma, sono rimaste fuori. E questa è la situazione. Anche nell'altra pagina, nel nostro sito internet, vedete, abbiamo, e ci sono tutte le notizie dell'ultima ora, quelle già della notte e poi man mano le ultime, le ultimissime, vedete, due persone sono morte nel crollo della loro abitazione a Pescara del Tronto, una frazione di Arquata, lo confermano i carabinieri, si tratterebbe di una coppia di anziani coniugi deceduti nello stesso crollo. E poi, ecco, ci sono anche delle fotografie, qui a Matrice, la zona dell'epicentro, queste sono le prime, primissime immagini. Vedete Arquata, un paese completamente distrutto, ed ecco ancora qua sotto alcune foto che sono state postate. Adesso stanno arrivando chiaramente anche tutte le truppe televisive, stanno tutti in diretta. non c'è corrente, non c'è corrente nelle zone colpite, quindi insomma i cellulari, compreso quello del sindaco che poco fa ho sentito in diretta, non so se su Rai News 24 o da qualche altra parte, gli si stava scaricando il cellulare, quindi anche le comunicazioni presto diventeranno difficili. Ecco perché, visto che il SER, il servizio emergenza radio di Fano, è un servizio ormai collaudato, molto importante, ecco perché è stato subito allertato dalla Protezione Civile Nazionale, quindi stanno andando là anche per valutare se allestire questo campo dedicato alle comunicazioni. In attesa che si possa ripristinare la corrente, ma immaginate quando tutto crolla, è difficile nell'immediatezza mettere subito, ripristinare la corrente, se non con chiaramente i generatori. Questa è un po' la situazione, è quello che è successo nel corso della notte e queste sono le prime immagini che riguardano l'alba. Dovremmo avere il nostro operatore Filippo Pucci al Rosciano, al Codma di Rosciano, dove ha la sede la Protezione Civile delle Marche. Sono immagini che arrivano in diretta, qui dovrebbe esserci appunto la Protezione Civile. Ecco qua, vedete i primi soccorritori. Sono immagini che io vedo insieme a voi in diretta, sono le 7.38, vedete stanno già preparando i borsoni, stanno già preparando tutto quello che serve per andare nelle zone colpite dal sisma. Sono i locali che sono stati dati in uso appunto alla Protezione Civile di Fano che con quattro, lo ricordiamo, quattro responsabili. Ecco io non sento l'audio qui in studio e non so nemmeno se è possibile collegarsi con loro, non so se voi a casa sentite, non so se è possibile avere l'audio, chiedo alla regia, è possibile avere un po' di audio in sottofondo per capire anche se c'è la possibilità di sentire, di collegarsi con una di queste persone. Non sento l'audio, vabbè. Comunque sono immagini in diretta, ripeto, non c'è l'audio? Neanche quello ambientale? No, non c'è l'audio ambientale. Allora noi con queste immagini che vi fanno capire insomma ecco un po' quella che è la situazione, per il momento chiudiamo qui la pagina dedicata al terremoto ma chiedo all'operatore di rimanere sul posto, di rimanere sul posto, magari la riguardiamo un attimo, ci ricolleghiamo alla fine di questa rassegna stampa, rassegna stampa che come dicevo già all'inizio sarà molto veloce, diamo uno sguardo soltanto alla pagina del resto del Carlino di Pesaro, eccola qua, la foto, certamente non ci sono notizie sul terremoto perché il terremoto è successo alle 3.36 quindi i giornali erano già in viaggio sui camion verso le edicole, allora dicevo, vediamo velocemente i titoli, salvati sei bambini, momenti di terrore, ieri affosso sei ore, bambini e genitori in difficoltà per il mare grosso, anche qui si fa la foto, per carità tutto è andato bene, siamo tutti felici e contenti, però una tirata d'orecchie ai genitori forse sarebbe il caso di dargliela. Ipotesi privatizzazione per il Palace, invece Aspes a forte rischio per l'Adriatica Arena, il sindaco vuole più flessibilità nella gestione. Sulla Fano Grosseto, lacrime amare, il punto del direttore Luigi Illuminati, poi sotto invece la Madonna ha protetto le mie due figlie, a Fano parla il padre sull'investimento con il camion, non eravamo tornati da Loreto, per fortuna poi tutto è andato bene. La pagina di Fano invece, eccola qua, del resto del Carlino, pescati rifiuti inquinati in mare, bimbi portano a riva pile, batterie di auto, ferie arrugginiti, altro materiale lasciato in acqua, ignorata la boa di pericolo. Maggi, che si occupa della tutela delle spiagge, dice abbiamo avvisato la Capitaneria e il Comune, ma là non si è visto nessuno, serve maggior coordinamento. E questa è la pagina di Fano. Poi andiamo sul Corriere Adriatico. Turisti, turisti assediati dalle bancarelle, così non è garantita la sicurezza. Sulla fiera che inizia oggi a Fano, la fiera di San Bartolomeo, al via con la protesta degli albergatori di Sassonia, che evidentemente si lamentano su queste bancarelle che sono state posizionate forse un po' troppo a ridosso degli ingressi degli alberghi. L'assessore Cecchetelli promette di rivedere la collocazione degli ambulanti dal prossimo anno, ovvero dal 2017. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. Solidarietà spontanea della città, un fondo per i fanesi in difficoltà, riunione di alcuni volontari, gli aiuti ai cesaroni in eccesso verso altri scopi. Bertoglio critica il Comune inascoltato il suo appello per una partita di beneficenza. E piace l'animazione anni 60, successo per Piazzetta Capri, il Sindaco propone un doppio appuntamento. Allora, per quanto riguarda la pagina del Corriere Adriatico invece di Fossombrone, anzi no, brutta notizia davvero, hanno rubato una settantina di ostie consacrate, sono state prelevate dal tabernacolo della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, preoccupato Don Ivan Bello Marilo, vedete nella fotografia, insomma è un ennesimo furto in chiesa, sapete insomma un po' che fine fanno, ammesso che siano state prelevate da qualche gruppo organizzato, che fine fanno queste particole, queste ostie. Anziana cade dalle scale, siamo a Fossombrone, è gravissima, è stata portata all'ospedale di Torrette in eleambulanza, un gravissimo incidente casalingo, ieri sera a Fossombrone, nel tardo pomeriggio, una donna di 84 anni che in quel momento era sola. L'incidente è avvenuto probabilmente verso le 18, le 6 del pomeriggio. Allora, rassegna stampa breve, dicevo, un po' sconvolta, senza il consueto ordine di scaletta. Allora, torniamo per un attimo a vedere le immagini dal CODMA, da dove stanno partendo queste quattro persone della protezione civile di Fano. Ecco, io continuo a non sentire l'audio, speriamo che questa cosa, non so se a casa, ecco vedete, stanno organizzandosi e stanno prelevando anche tutto il materiale che porteranno poi nei luoghi disastrati, materiale che servirà, sono due addette alle comunicazioni radio e due che dovranno valutare il caso di allestire un campo per sfollati. Immagini, ahimè, tristamente note, sono quelle immagini, quelle tende azzurre che vengono montate solitamente nei campi. Ecco, adesso abbiamo finalmente anche l'audio. Sono rumori di sottofondo, io non so se è possibile fare qualche domanda. Fare qualche domanda, vedete, stanno prelevando dagli scaffali. Sì, non sappiamo più poco da dire. Ecco. Bene, grazie. Bravo Filippo. Allora, io direi che possiamo fermarci qui con la rassegna stampa, chiaramente torneremo su questo argomento anche nel telegiornale delle 20 e 30 e come è nostra consuetudine. Chi ci segue ormai da più di dieci anni sa che Fano TV è sempre sul pezzo e dunque siamo lì pronti a raccontarvi nel caso in cui ce ne fosse bisogno quello che accade e quello che succede attorno a noi. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo più tardi. Arrivederci.